e che ancora abbiamo qualche speranza. Grazie. Due attrici, è un miracolo perché abbiamo due attrici che pensano. Cioè la cosa, e a questo punto devo dire anche il mio pensiero, lo sintetizzo, se no se andando a braccio mi faccio prendere la mano, devo essere preso a calci per scendere da qui. Spero che voi tutti abbiate scelto di essere onesti, e dico scelto perché, perché temo che la disonestà non sia una devianza dell'uomo, ma che sia proprio nella sua natura. E dico nell'uomo e non nell'essere umano, perché così non è per le donne. E forse non a caso la donna è stata a lungo tenuta fuori dal potere, perché la donna ha una visione della vita da madre, vive il futuro e non solo se stessa. L'uomo è onesto per scelta, per educazione, per cultura, generosità. E qui è la fortuna di disonesti, che sta nell'autorizzare il peggio che latita in noi a venire fuori. Mediare o tollerare rende immediatamente disonesti.